Sam e Danielle Le vomitelle in persona Sono stanche di essere Le migliori brave ragazze Vogliono diventare qualcos'altro Vengono tutti E sono pronte a stupire il mondo Queste feste fanno schifo Non c'è neanche un prestigiatore Ehi nerd, una partita a beer pong Per il ciclo Love Education In prima tv sulla 5 La riscossa delle nerd Mercoledì in prima serata